Il 97% dei musicisti arriva da una famiglia benestante, ok? Questi titoli sicuramente che provocano determinate reazioni, titoli chiamiamoli clickbait, titoli con cui attirare l'attenzione, ma c'è un fondo di verità in questa affermazione di questo artista, credo, new yorkese, che io sinceramente non conosco, una notizia che mi è saltata fuori ricercando delle altre notizie, ho visto questo, ho detto vabbè, vedete, i titoli mi hanno un attimino acchiappato e quindi mi sembrava bella l'idea di fare un ragionamento insieme a voi. Logicamente è un tema in realtà molto delicato, molto delicato perché io capisco che io sono molto d'accordo con l'affermazione di questa persona, perché? Perché l'ho vissuta ovviamente sulla mia pelle durante il mio percorso, ok, all'interno del settore della musica. Io non arrivo da una famiglia benestante, arrivo da una famiglia normalissima e posso garantire per esperienza personale o meglio per quello che è stata la mia esperienza, dico assolutamente sì, molti, il 95-97% dei musicisti che dicono di fare musica di professione in realtà possono semplicemente permetterselo e utilizzano la musica come una bellissima scusa per non dover fare un lavoro vero, ok? Uso questo termine ovviamente è sempre in modo provocatorio, no? Però le implicazioni di questo al netto che io non voglio puntare il dito e dire ah vabbè allora perché se uno se lo può permettere, ah così non va bene, eccetera, no, se uno se lo può permettere è buon per lui, no? Però ci sono degli aspetti che io ritengo essere abbastanza fondamentali. Uno, se voi guardate storicamente e andate a cercare storie di persone di successo e con di successo non intendo necessariamente visibili, ma che hanno costruito delle cose e delle aziende o semplicemente delle realtà importanti, vi accorgerete che molti di loro arrivano da situazioni abbastanza disastrate dal punto di vista economico e anche dal punto di vista diciamo del contesto sociale e familiare. E infatti non è un caso. Io personalmente vedo che tendenzialmente chi arriva da situazioni più complesse di solito ha un'aggressività e una cosiddetta cazzimma molto più potente rispetto a chi è in una situazione particolarmente agiata. Ma perché? Perché non ha bisogno di estrarre del valore da quello che fa. E questo è il problema che io ho visto tante volte all'interno del settore della musica. Cioè cosa vuol dire? Che essendo che molte persone utilizzano la musica come un mezzo di espressione, come un mezzo dove ah sì io lavoro con la musica perché io faccio un musicista eccetera, ma se poi vai a scavare, sono persone che ripeto potrebbero tranquillamente non lavorare, infatti non lavorano, che cosa succede? Che non danno valore, e la parola chiave è valore, non sono soldi ma valore a ciò che fanno. Non danno valore alle collaborazioni o alle richieste di collaborazione che tirano in piedi, ok? Uso questo termine. Perché? Perché di base nel loro DNA e nella loro testa non c'è il, non c'è, non esiste la domanda del ma come faccio a guadagnare da questa mia operazione, da questo mio progetto, da queste mie competenze eccetera. Non esiste. Perché? Perché di base non ce n'è il bisogno. Anche perché se una persona, e io questo ripeto, quantomeno è la mia esperienza, poi non dico che sono tutti così assolutamente, ma nella mia esperienza, in tante situazioni, io mi sono sempre chiesto ma com'è possibile che magari quando facevo il musicista a tempo pieno, ok? A 27 anni, a 28 anni, ok? Quindi parlo di 6 anni fa, 7 anni fa, dove mi dedicavo, ok? A quello principalmente, mi dicevo ma come fanno le persone con cui trascorro la maggior parte del tempo veramente a riuscire a campare? Perché ad esempio io facevo una fatica bestia, ok? Perché? Perché non arrivavo da una famiglia, e non arrivo da una famiglia ricca, arrivo da una famiglia normalissima di persone che hanno lavorato e si sono fatte in mazzo una vita, ok? Con un'azienda agricola e quindi mi hanno trasmesso il valore del lavoro e mi hanno trasmesso tanti valori, come anche tante sicuramente tare mentali rispetto al tema del denaro, ma questo è tutto un altro discorso, però vedevo proprio questo, vedevo che non c'era l'attenzione alla ricerca del riconoscimento valoriale, ma riconoscimento valoriale verso se stessi e verso gli altri. Quindi sono quelle situazioni dove, ah sì, bella, collaboriamo, oppure ah ma sai che ho questo progetto, non è che vuoi partecipare perché ho in mente poi di fare questa cosa qui, oppure non lo so come dire, ah sì se facciamo questo disco poi investiamo i soldi insieme così poi se ci sono dei rientri, cioè c'è sempre una grande confusione, soprattutto una grande confusione di che cosa significa dare valore, che cosa significa riconoscere il valore e in ultima analisi questo è anche un aspetto che va poi a toccare l'economia e io dico sempre attenzione che l'economia è il risultato di quanto valore noi siamo in grado di dare e soprattutto farci riconoscere, ok? Ma soprattutto l'economia è qualcosa che rende chiari i rapporti tra le persone. Io vi porto un esempio, se voi provate ad esempio mettere tanti soldi in una vostra progettualità sicuramente ci mettete, ci mettete grande attenzione. Oppure vi porto un esempio che è ancora un esempio ancora più concreto che io vivo oggi sulla mia pelle, per esempio io ho capito che non c'è cosa più stupida al mondo che dare informazioni gratis e voi direte ma come hai un canale divulgativo? Sì assolutamente, infatti qui sopra diamo tante informazioni, ma io non mi sognerei mai di regalare due minuti del mio tempo in modo gratuito a una persona che ad esempio ha bisogno di consigli o una persona che ha bisogno di consulenza. Perché? Non perché non credo che quei consigli uno possa o meno darli, ma semplicemente perché se una persona non paga non presta attenzione. Perché? Perché non sta dando valore a quel consiglio. E infatti a qualsiasi livello avrete sicuramente tutti vissuto l'esperienza che quando una persona vi chiede un consiglio su, mettiamo, facciamo un esempio, siete dei musicisti e un vostro amico vi chiede ma allora guarda sto pensando di comprare quello strumento e pensavo di comprare questo perché ma secondo te un consiglio tu gli puoi dire tutto quello che vuoi, puoi dirgli no guarda che non ti conviene usare questo strumento perché ce l'ho avuto, perché l'ho provato cento volte, perché l'ho usato in studio cento volte, guarda allo stesso budget tu potresti comprare quest'altro strumento che è molto meglio per questa, questa e questa altra ragione la persona ti dice sì 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 sì, un giorno te la vedi arrivare in studio e dici ma perché hai comprato poi quel rollante lì? Eh no perché pensavo che, cioè le persone quando voi non date valore, ok? A ciò che state facendo non state di fatto dando valore a voi stessi. Quindi io ero partito da questa affermazione per fare diciamo questo ragionamento aperto a ruota libera ma è estremamente reale, estremamente vero e tra l'altro io vi consiglio di fare una ricerca su quanti di queste, delle persone che oggi vengono considerate di grande successo, che oggi hanno una grande anche popolarità eccetera eccetera arrivano in realtà da situazioni molto complesse. Perché? Perché quando tu sei abituato a, non so come dire, a dover crescere in qualche modo cercando sempre di cavartela da solo non c'è niente da fare, c'è una marcia in più. Invece chi è abituato a stare nel molle, a stare nel comodo, ale, diventa tutto un ma sì facciamo questo, ma sì proviamo quello, ma sì perché secondo me, ok? E secondo me, secondo me, secondo me, oppure no ma collaboriamo, no? Cioè non c'è mai un rapporto valoriale, ok? Tra le parti. Ma tra le parti significa anche proprio con se stessi, no? E questo secondo me è un grande problema perché poi crea tutto quello che è il circuito del non riconoscimento valoriale, il circuito della difficoltà a trovare e creare lavoro e quindi questo è veramente quello che penso. Cioè che le persone che fanno effettivamente la differenza sono persone che hanno una grande capacità di riconoscere il proprio valore, farsi riconoscere il proprio valore perché sanno benissimo che se in mancanza di questo scambio, in mancanza di questo patto che ha come conseguenza il fatto di attuare politiche economiche e in ultima analisi i soldi sono l'unico mezzo che ci permette di dare tangibilità a una transazione che sia di tipo di servizio, di tipo di prodotto, ok? E qua si potrebbe aprire un'altra grande parentesi. Bene, chi non fa questo tendenzialmente non ha rispetto né del proprio lavoro né del lavoro degli altri e soprattutto né del proprio valore, ok? Se vi interessano questi argomenti, se siete delle persone che ne hanno un po' piene le balle di lavorare per niente, di lavorare per tre spicci, di non riuscire veramente a strutturare le cose in un certo modo e riuscire veramente a inserirsi, ok? All'interno di una determinata nicchia, un determinato mercato o per esempio mettendo a disposizione il vostro valore. Io vi ricordo che qualche giorno fa c'è stato l'MB Talks, ok? A Padova, che è stato un evento veramente incredibile con un sacco di gente. Sono usciti un sacco di temi, ovviamente sulla nostra scaletta, che vanno a diversificarsi da evento a evento. Quindi io vi consiglio, se volete accedere a queste informazioni, potete farlo ad un prezzo popolare. L'evento di Padova è un evento che è durato più di quattro ore, ok? E ci sono anche le registrazioni di tutti gli eventi che abbiamo fatto e sono sicuramente un grande punto di partenza se volete capire come costruire un vostro modello, come uscire per esempio da una certa mentalità, come riuscire a entrare in una certa mentalità, come riuscire a costruire delle collaborazioni che partano da un discorso solido e quindi da un discorso che ha un vostro modello chiaro, io veramente ve lo straconsiglio. Lo potete fare a un prezzo veramente popolare, logicamente le registrazioni degli eventi ci perdonerete, non le regaliamo perché anche sempre per il discorso di prima, chi non paga non presta attenzione, quindi non ci interessa andare proprio, cioè già regaliamo tante informazioni, almeno queste no, è anche un modo sicuramente per, voglio dire, per entrare, ok, e mettere un piede all'interno di quelle che sono poi i nostri, la nostra mentalità, il nostro percorso, i nostri modus operandi e li abbiamo benché rivelati all'interno di questi eventi, quindi se qualcuno di voi volesse può scriverci una mail, io vi ringrazio e vi auguro una serena serata, arrivederci.